oh yeah oppure andiamo no vabbè si può più fare yeah oh yeah no eravamo io qui tutti prima questo? oh aspetta questo sotto d'amaranza non mi dispiace questo? si vuoi fare l'amaranza? no era a tavola di togliere il marzo che ho visto che non si può mattia 01 versione femminile no ti prego rimetti questo sopra questo sono io d'estate vai va bene va bene oppure cambiamo nome così sei proprio riconoscibile non si sa mai magari qualche fan accannito dice ah Rory è un ragazzo di Plessis Puno eh beh però sarebbe divertente no no lascia Rory lasciamo Rory vai oh la intro del cazzo come this motherfucker oh io sono una signorina mi devi parlare con rispetto no senti questo mi sembra Samuel L. Jackson tu puoi ma questo è un ne- dai muoviti portami in città oh oh matto vediamo se risentiamo questo io non so fai ciao mi sentite ciao mi sentite va bene grazie della risposta guarda vengo da un viaggio di una cosa come 12 ore tre cambi mi devo cambiare bene grazie della mano guardo da sola eh chiedili se ti sente però ma mi senti sto sto parlando da sola penso che sto parlando da sola sto parlando impressione però sei scemo o no per capire oh ma mi senti vabbè fa niente eh scusa tu mi senti la sento oh grazie ho parlato tipo un quarto d'ora da sola perché quell'altro non mi sentivo va bene capito scusa scusi un secondo che c'ho un problematico qua domanda ma il tuo amico non mi sente un coglione proprio che mi risponde no per capire in attimo comunque no non lui non lui non lui non lui era era qualcun altro qualcun altro che sta vicino a me fuori buona sapersi se questo continuano a rispondermi io tappo il rodas c'è fai tu vabbè io che ho i miei badas è stato un piacere che macchinona si è la mia se puoi gentilmente le parti da cazzo questa è la mia questa è la mia voi ci sono venuti adesso ma non mi non mi riguarda mi pare ho paura mi sa non hai paura tu di una pistola io? si vai andiamo vabbè grazie del passaggio regà prego è in modo come mai salita in macchina ma ti devo dire non c'ho un cazzo da fare ho visto che stavate di fermi ho detto magari ne approfitto dai mi serve un passaggio per andare in città le andrebbe di fare un attimo lo stagio? vabbè se proprio insisti dai vabbè dai se fate una rapina voglio 10% però come minimo oi oi sei salita tu in sta macchina cara tu mi hai appena chiesto di fare lo stagio fra vieni vieni eh non possiamo farla qui dobbiamo andare l'altra ah e voi da dove venite? io vengo da lontano vengo dalla giamaica complimenti mi dicono come il posto l'altro? eh io molto lontano da qua ma cristo santo no ma come cazzo guidate? no effettivamente effettivamente c'è che già la cintura però non è un diciamo eh fra anche io vengo da molto lontano è molto vicino ad africa e da quelle parti la cintura non si usa ma io ho capito vengo da napoli vabbè ma a cosa puntavate esattamente adesso? a fare soldi ok ma dopo c'è dopo sta rapina per dire avete qualche altro piano? perché io dopo che mi avete scaraventato così speravo di sopravvivere un altro quarto d'ora almeno cioè sono appena arrivata jet lag di 12 ore eh porca puttana ahia mamma mia non so proprio guidare grazie ma si raga ma non siete manco professionisti cioè ma con che cazzo sono stati in macchina? eh cara ora che arriviamo là sul posto scendo solo io lei non deve scendere ma scusate ora che devo fare esattamente ma lo stagio dovrebbe stare dentro no? si ma dobbiamo prima controllare se è possibile quindi no è occupata scendi nel momento in cui dimmi dimmi fermo si è puntato dimmi vai siamo tre siamo tre siamo tre ah siete tre uno scende uno scende una scende allontanatevi vabbè però calmatevi entra 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 manca a far così sono scesa dammi un attimo addio salvo ma guarda sparano sparano che cazzo bra? tutto bene il fra non sta bene vabbè grazie per avermi salvato fra e poi a questo ci penso io ci penso io ci penso io metto il ginocchio 644 se potete ci penso io a questo cioè ho esperienza no non si preoccupa lei eh guarda comunque ne ho rimandati tanti in lobby cioè non è problema occuparmi ho capito ma con quale arma lo fai? vabbè ma secondo te io ho davvero bisogno di armi dai guarda c'ho una macchina da fuori bra? non ho bisogno di armi fidati ne hai bisogno figlia ti lascia stare aspetta qua ok? se non se non se non vuoi aspettarci fa niente bastardo affanculo a te amico tuo pastica grande vediamo in caffa ostaggio ritorna dentro mannaggia a te vabbè scusa ero presa dal momento cioè mi hanno così sparato ma fra questo comunque è un po' abuso di slash me secondo me vabbè lo so che ci devi fare purtroppo fanno tu eh dice ognuno c'è i suoi difetti vabbè regà se vediamo in caff facciamo bannare che dire vieni a vedere guarda dove siamo no mi hanno sparato no morirai a breve bastardi questi fight hanno che fanno ok ma è ancora là guarda guarda è un fight sto assistendo in prima persona a un fight li tapperò l'ass non li vede l'ha tappato no hello there guarda dietro guarda me lo fa me lo fa mamma se non lo fai sei scarsissimo vai fallo vai gli ho sparato gli ho sparato benvenuti signori e signori dell'ultri tonda stiamo assistendo a un fight in diretta fight molto interessante stiamo qui a commentare con Rory dici cosa pensi di questa allora fight molto molto interessante diciamo che quello lì in fondo non ne sta a prendere uno insomma diciamo che non è molto esperto diciamo che i neri ecco i neri non per offendere nessuno ma i neri probabilmente hanno avuto la meglio non si sa ci manca un uomo io ho visto di quel piedi pistola venire da qua a destra bene bene è un occhio molto vigile io non ci capisco un cazzo ottimo penso che respawnerò sono nel back room sono finita nel back room è questo che si vede quando si muore che cazzo bisogna andare la gente che succede la gente che succede posso essere messo al corrente no vabbè manca fa così ah raga non si trolla dai non sgravate cosa? non capisco il linguaggio ha fatto vdm a 30 persone si aspettano anche che non li ho manetto ma seriamente io sono senza parole fra ma non sei quello che fai video su youtube scusami ma sei blesse in Pluto no la voce la voce è simile cioè se non è lui è molto simile no siete sicuri perché giuro che prima giurerei che prima è stato lui a spararmi ho fatto blesse in Pluto lo avrei lasciato fare il suo lavoro ma io voglio bannato questo stronzo penso sia almeno la terza volta che mi ammazza no blesse in Pluto è un grande che carino vabbè io io allora vado se ci sono queste divergenze creative preferisco non mettermi in casini secondo me almeno rovina del RP della gente poi non so non so voi rovina rovina però è divertente ogni tanto alcune robe che fa cioè quindi questi WDM sì però poi il Bessi in Pluto no perché è un po' da ipocrite Pluto può anche far esplodere l'ospedale intero che carino vabbè vabbè fra io io me do eh vai vai fra ma sai guidare come cazzo guidi mi stavi ammazzando ma sei in contromano ma io sono senza parole ma sei in contromano vabbè fai ciao bello vabbè vaffanculo va questo è il mio questo è il pegno da pagare WDM no niente e vabbè macchinina nuova mamma mia che cosa sta avvenendo fuori occhio fagli occhio occhio Dio scusate non ho ancora preso la patente sto facendo delle guide di prova tutto bene ti ho preso eh sì vabbè vabbè eh cazzo mi spiace nulla nulla buon passaggio sto andando a un club stai muo vuoi Dio che mi tiene addosso sì bravo però manca a venirmi addosso così nel senso io l'ho fatto per errore no non c'è bisogno di incularmi così vai da rompere il cazzo va ma co ti ho pure ti ho pure proposto un passaggio senza parole cioè oh sta sparando sta sparando ma gli ho uccisi eh vabbè è ripoprato ma fagli ma perché mi insulti scemo perché mi insulti mi chiedo porco Dio noi siamo ancora vivi ancora vivo no c'è Grazie per la visione!